È una sfida sociale, prima ancora che imprenditoriale, quella che Menchetti ha accettato aprendo un suo punto vendita all'interno del Parco Pertini ad Arezzo per gli Aretini il Parco Giotto. Sarà aperto dalle 7 del mattino alla mezzanotte, sarà un modo per far vivere finalmente in ogni ora della giornata il polmone verde più bello di Arezzo, così come accade in ogni capitale europea, domani l'apertura alle 17. Sì, è un punto diverso dagli altri, sotto tutti i punti di vista, è un punto diverso per lo cash, per tipologia di vendita. Ci sono tante situazioni diverse. Chiaramente in questo caso qui c'è una funzione, come hai detto te, anche sociale, perché non vuoi solo la parte giù con conè, perché comunque sia l'attività, la struttura è stata creata da loro vincendo un bando pubblico, ma è stata fatta anche da noi, diciamo, una disponibilità, resa una disponibilità nel fare vari eventi durante l'anno, durante tutti i giorni, che comunque sia convolga più fasce di età, convolga più persone, soprattutto per fargli vivere di più lo star fuori, far vivere di più, stare in mezzo al verde, che è una cosa che il Covid chiaramente ha un po' smosso di più le coscienze su questa tipologia di vita nuova da cambiare e che fuori chiaramente nelle grandi città è già una consuetudine, perché insomma voglio dire i parchi sono vissuti veramente come una parte della giornata delle persone, cioè se vai in città come Milano, in un parco di queste dimensioni ci sarebbero dentro 7, 8, 10 attività, 6 chioschi, perché le persone lo vivono in maniera proprio come parte della giornata passare un'ora, due ore al parco. E allora per questa grande apertura quali saranno i fuochi d'artificio che avete preparato? Ma i fuochi d'artificio è, diciamo che domani cerchiamo di coprire tutte le facilità con l'offerta, sicuramente non solo dal punto di vista della musica, dal punto di vista, diciamo, per i bambini, con gli omaggi dei palloncini, ci saranno delle cose circensi che si muoveranno durante chiaramente tempo permettente perché pensare ai primi di giugno di avere ancora una stagione così, insomma non avrebbe creduto nessuno. Siamo pronti, siamo preparati, i ragazzi sono tutti carichi, sanno benissimo quello che devono fare perché sono stati preparati bene, vediamo, servirà il tempo, come sempre io dico, insomma il tempo è giudice e aspetteremo, insomma servirà forse qualche mese in più per ottenere risultati e portarlo a un punto di brecchimento importante, però siamo fiduciosi. E per l'apertura ci saranno Omero in France e la Gina, tutto pronto dunque, nonostante un atto vandalico subito nei giorni scorsi da Menchetti sono stati tagliati i cavi di rete. Avevamo già mille problemi qui da risolvere perché in due messe e mezzo c'erano tante problematiche da risolvere e poi insomma non ultima il danno che ci hanno fatto nella notte due giorni fa ci ha messo un po' di difficoltà e ha rischiato di far saltare l'attività. Siamo riusciti a sopperire a questo danno, non solo economico ma anche di tempo di lavoro, idraulici e elettricisti sono andati da fare e hanno rimediato loro questo danno e ci ha fatto dare conferma all'ok per l'apertura totale domani e partiamo.